Armato di pennelli e vernice, il candidato alla Regione Abruzza Alfonso di Sabatino Martina ha simbolicamente riverniciato di bianco le strisce blu gestite dalla Easy Help, chiedendo all'amministrazione comunale di revocare la convenzione che, ha detto di Sabatino Martina, penalizza oltre misure il centro storico e le attività commerciali. Chiedo la revoca perché è una convenzione priva di qualunque utilità pubblica. Allora, siccome, fino a prova contraria, l'ente pubblico deve fare gli interessi generali della collettività, nella misura in cui viene meno la pubblica utilità, io credo che sia necessario, al fine di non evocare scenari diversi, che ci sia un po' di buonsenso e ragionevolezza da questa amministrazione che difetta in questo criterio principale, nel revocare una convenzione che ha dell'assurdo. Lei quali aspetti contesta in particolare di questa convenzione? Potremmo parlarne a lungo. Io in conferenza stampa ne ho citati alcuni. Sicuramente c'è il tema assoluto della scarsa utilità in termini economici, c'è il tema assoluto del provvedimento liberticida nei confronti del commercio, che già vive una condizione di grandissimo disagio in questa città, e c'è il tema assoluto, tra l'altro, del provvedimento che giunge in un momento improvvido, sia per ragioni legate alla post-pandemia che per ragioni legate alla situazione del superbonus e del sismabonus, che avrebbero dovuto indurre questa amministrazione a ritardare un provvedimento del genere, atteso che le royalties che dovrebbero rinvenire all'amministrazione sono integralmente compensate con gli stagli occupati per i cantieri. Mi dica lei se c'è la pubblica utilità. Lei cosa propone per il centro storico in questa fase? Il centro storico va rivitalizzato. Questa è una città che sconta un spostamento naturale a valle, quindi abbisognerebbe un piano serio di intervento anche di riqualificazione urbana in termini di pavimentazione, di abbellimento, di fioriere, di incentivi a chi impianta un'attività nel centro storico.